rolex vi presenta musica è una prima mondiale la scala di milano ha presentato a ida in una prima versione sconosciuta è una scoperta sorprendente che i ricercatori hanno fatto solo un anno fa dal momento che l'ampia eredità verdiana è molto conosciuta quando parliamo di un genio come giuseppe verdi se c'è la possibilità di cercare qualcosa che non conosciamo penso che sia solo un arricchimento per tutti è sicuramente una scoperta di grande musica si tratta di quasi 100 battute di musica verdi lasciò cadere e sostituì il suo inizio originale del terzo atto poco prima della prima rappresentazione il ritornello è un meraviglioso momento polifonico il compositore italiano ha utilizzato parte di queste partiture originali tre anni dopo la sua messa da requiem penso che il maestro sia un tipo di musicista a cui piace scoprire cose nuove interessanti ci saranno delle persone che diranno no questa non è a ida è un'altra cosa voglio la vecchia versione e ci saranno persone che l'accetteranno e l'adoreranno amo il suo coraggio in dire alla gente devi scegliere a me piace spero piaccia anche a te l'opera ambientata nell'antico egitto tratta dell'amore impossibile tra la schiava etiope a ida e un comandante militare egiziano chiamato radames ma la figlia del potente faraone amneris lo vuole per sé in vano mi piace tutto di questa donna perché non è solo fragile è innamorata e gelosa è anche molto molto forte c'è molta sensibilità nella sua anima verdi lo mostra nella sua musica c'è un'enorme emozione e quello che cerco sempre di dimostrare è un grande dolore quello che lui ha nel cuore la mia parte preferita la più profonda è il duetto finale dell'ultimo atto penso che la musica ci porti tutti in un mondo diverso anche se la situazione è tragica se ha a che fare con la morte la musica un'incredibile spiritualità per me la notte è una visione molto emotiva di tutto ciò la musica vi è stato presentato da rolex un'incredibile spiritualità per me la notte è un'alto di più la musica di più la musica di più Grazie a tutti.